Il massiccio del Gran Sasso, il più alto dell'Abruzzo e dell'intero Appennino, offre agli escursionisti e agli alpinisti vette, sentieri e pariti di eccezionale fascino. Molti degli itinerari più belli iniziano dal rifugio Franchetti, di fronte alle rocce del corno piccolo. A giugno, per salire verso le cime, occorre un'attrezzatura da alta montagna, completa di scarponi pesanti, ramponi e piccozza. Il peso dello zaino si fa inevitabilmente sentire. Massimo Pecci e il suo amico Luca Lombardi sono due alpinisti di grande esperienza e conoscono a memoria il sentiero che sale da rifugio verso la sella dei Due Corni e le cime più elevate del Gran Sasso. A luglio e agosto, ogni giorno, passano da qui centinaia di escursionisti. Le pareti e le torri calcare del corno piccolo offrono agli arrampicatori una straordinaria scelta di itinerari su roccia solida e sicura. Superata la sella dei Due Corni, Massimo e Luca si lasciano alle spalle il corno piccolo e proseguono per nevai e per ghiaie, verso la conca più alta e più segreta del Gran Sasso. Oggi Massimo Pecci non è qui per concedersi una giornata di svago. Glaciologo presso l'Istituto Nazionale della Montagna segue da anni l'evoluzione del ghiacciaio del Calderone noto ai ricercatori di tutto il mondo perché unico dell'Apennino e più meridionale d'Europa. La prima volta che sono stato sul ghiacciaio del Calderone è stato alla fine degli anni 70 ed era durante un corso di alpinismo e si andava sul ghiacciaio del Calderone per fare una via di ghiaccio. Da allora il ghiacciaio del Calderone è cambiato moltissimo e effettivamente negli ultimi 20 anni questo ghiacciaio ha subito una trasformazione molto veloce. Ho cominciato a seguire il ghiacciaio del Calderone e devo dire che è stato un amore a prima vista da una parte però dall'altra anche una passione costante e costantemente rinnovata. Da un punto di vista scientifico e di ricerca l'attività si svolge all'inizio e alla fine della stagione estiva che rappresenta il momento critico per la vita di un ghiacciaio perché è il periodo in cui tutta la neve accumulata nel corso dell'inverno si può sciogliere completamente oppure passare la stagione estiva e trasformarsi in ghiaccio e quindi dare nuovo impulso alla vita del ghiacciaio. La ricerca scientifica su un ghiacciaio non è fatta solo di giornate in montagna. Da anni nel suo ufficio di Roma Massimo Pecci raccoglie e studia racconti di ascensione, disegni e fotografie che gli raccontano l'evoluzione del Calderone dalla fine del Settecento ai giorni nostri. Resoconti di gite, vecchie guide alpinistiche, istantanee e ingiallite dagli anni dimostrano che in passato il ghiacciaio era molto più esteso e molto più spesso di oggi e riempiva quasi completamente la conca ai piedi delle vette del corno grande. Generazioni di escursionisti e alpinisti si sono stupiti nel vedere il grande pendio di neve e ghiaccio che saliva da 2600 metri di quota fin quasi ai 2912 metri della cima più elevata del massiccio. Oggi la situazione è molto diversa dal passato. Anche tra maggio e giugno, nel momento di massimo innevamento, dalla neve che riveste il Calderone affiorano lastroni di roccia e pietraie. La morena, che chiude il Calderone, è il luogo migliore per effettuare un rilievo topografico della conca e quindi per verificare le trasformazioni della superficie del ghiacciaio. Il sistema GPS, che permette di fissare la propria posizione collegandosi con una costellazione di satelliti artificiali, comprende un palmare e un'antenna ed è affiancato da un puntatore laser che serve a misurare le distanze. Riportando su uno schermo la quota e la posizione di una serie di punti, si tiene molto più rapidamente che in passato una precisa mappa della zona di studio. Per i rilievi successivi, un vero e proprio check-up delle condizioni ambientali del Gran Sasso occorre spingersi nel cuore del Calderone, dove lo spessore della neve e del ghiaccio è maggiore. Nel 2000, l'affioramento di una fascia di roccia ha tagliato il ghiacciaio in due parti. Fino a qualche decennio fa, anche le rocce levigate ai piedi della vetta occidentale erano ricoperte dal ghiaccio. Una trincea scavata nel pendio consente di studiare le caratteristiche della neve. Le caratteristiche superficiali sono di una crosta da vento non portante, no? Su neve bagnata. Sotto la crosta superficiale appare della neve farinosa, seguita da strati via via più compatti man mano che si scende verso il basso. Anche lo studio dei cristalli è importante per conoscere la struttura della neve. Lo strato più superficiale dovrebbe cominciare a scendere. Seguono il controllo della temperatura e la verifica della densità, che si effettua prelevando mezzo litro di neve e pesandolo con una piccola bilancia. Dei campioni di neve da analizzare in laboratorio permettono di verificare l'eventuale presenza di inquinanti. Ecco qua. Il pH si è stabilizzato, ormai abbiamo... Le ultime misure rilevate da Massimo Pecci e Luca Lombardi sono quelle del pH della neve e della sua radioattività superficiale. Allora, siamo a quota 2745, quindi fra queste due curve di livello. Per verificare lo spessore della neve, quando questa è soffice, non c'è bisogno di strumenti raffinati, ma è sufficiente utilizzare una sonda. Un metro e quaranta. Due metri e quaranta. Trecentosessante centimetri. Il confronto tra le condizioni della montagna a giugno e a settembre è scioccante. Fino agli anni novanta, anche in autunno, il calderone era un pendio di ghiaccio. Oggi restano solo delle distese di massi e ghiaie, interrotte da modeste placche di ghiaccio durissimo e scuro. Massimo Pecci e i suoi collaboratori tornano sul calderone in autunno, quando le lastre di ghiaccio che affiorano sotto alle pietre rendono il camminare scomodo. Sulla neve caduta a settembre e sul poco ghiaccio affiorante si effettuano le stesse analisi della primavera. Cento e i sessanta. Richiede un duro lavoro, invece, sistemare le paline che serviranno da riferimento per i futuri rilievi. Ci troviamo nella depressione del ghiaccio del calderone, laddove fino a solo dieci anni fa si formava un piccolo laghetto, il Laghetto Sofia, dove si rispecchiavano tutte le cime così maestose e così belle che troviamo qua intorno. Proviamo a immaginare qua sopra di noi uno spessore di circa 50-60 metri di ghiaccio. Era la situazione che c'era in questo stesso posto una cinquantina di anni fa. Adesso di questo ghiaccio rimane quello che vediamo. Questo canyon, anche alle mie spalle, è la parte più esterna, terminale, di un inghiottitoio che all'esterno è sul ghiaccio e all'interno è un inghiottitoio di tipo carsico. Con la fine della stagione estiva e l'inizio dei primi rigori autunnali si chiudono le attività di rilievo sul ghiacciaio del calderone e si chiude quello che viene definito il bilancio di massa glaciale. fare un bilancio rispetto all'accumulo invernale di tutta la neve che si è sciolta oppure accumulata durante l'anno e in particolare è riuscita a sopravvivere all'estate. Per quest'anno, come per i precedenti, il risultato del bilancio di massa è negativo. Nel prossimo futuro, purtroppo, la conca dell'unico ghiacciaio del Gran Sasso continuerà a trasformarsi in una pietraia. La parola estinzione non riguarda solo gli animali e le piante. Non è facile avanzare ipotesi sul clima della Terra in un futuro lontano. Nei prossimi anni, però, chi vorrà ritrovare la magia del calderone dovrà visitare il Gran Sasso d'inverno oppure in primavera. Grazie.